Musica Coach Ripa, San Giorgese Basket Coach siete arrivati ai playoff, ai semifinali avete disputato due belle partite ma purtroppo la tua squadra Oggi eravamo proprio cotti, oggi eravamo stanchi si è visto, loro sono più attrezzati, più lunghi e più allenati, noi ci abbiamo provato non siamo riusciti a rifare la partita di gara 1 e forse c'è da dire che in gara 1 loro non hanno giocato come oggi quindi sono più forti, si vede non lo dico io, lo dice il loro trascorso di questo campionato hanno vinto praticamente sempre quindi non so quanti vittorie consecutive ci hanno quindi è così ma no, loro sono riusciti a mandare la stessa intensità noi no poi qualche tiro di troppo qualche errore qualche tiro di troppo da fuori senza attaccare la loro area qualche errore è stupido, qualche palla persa loro non perdono qualche altra squadra magari sì, loro no solo salutare il direttore sportivo Sergio Farina perché purtroppo sta poco bene è ricoverato e gli facciamo tutta la squadra gli fa in bocca al lupo perché sappiamo che dovrà stare a lungo in ospedale però sappiamo anche che che potrà tornare come prima insomma è quello che ci... auguri anche da parte nostra grazie mille, grazie mille riporterò sicuramente a Sergio domani allora in bocca al lupo grazie mille a tutti